He fought hard out there. Return to base for debrief. Scusate, mi sta morendo la jack comunque, eh? Eh, ma se stai a pinga troppo, magari... Se stai pingando troppo, magari non entrano neanche i colpi, non entrano. Eh, forca madonna! Mannaggia, Gesù il bambino! Nooo... Comunque non era da solo, ragazzi, cioè, cerchiamo di... No, quando ho visto la Killcam non mi dava nessuno della... No, no, lo so, però... Sì, poi io ti avevo chiesto a che piano era, dove eri, e cioè, cercavo di venire da... No, no, non ti ho neanche sentito, non ti ho neanche che me l'hai chiesto, cadù. Non so, col potere d'arresto il far one-shotato, cazzo. No, ma dopo c'aveva l'M16, io ho sparato con il MAC. Io ho sparato prima, non ho messato un colpo, ma ho acceso con l'M16. L'M16 si ti piana, si ti piana, si ti piana, si ti piana, la grafica a diretta. No. Oggi ho visto il video che avete, che qualcuno ha postato quello del tipo siciliano... del... del... del quadro che si scopa al guardrail. L'avete... l'avete chiaccare la pulchia che l'ha postato. Mincia Mirko Gamer, lei si chiama... che lo sta guardando Mirko Gamer. Ma che cazzo, ma questo è un cretino, ragazzo. Ma questo è più scemo, questo è più scemo dell'amico tuo, ragazzo. Perché? Cioè, un amico suo che fa lo YouTube è simpatio, ma fa dei contenuti scandalosi. Sì. No, è un bravo ragazzo, però il contenuto è veramente tra le cose più brutte che abbiamo mai visto. Cioè, lo guardo. Cazzo, lo segue la gente. Allora, ma io non lo so, sì, ho capito, ma lo segue la gente e non ci affisce nulla. E vuole guardare qualcosa in italiano. Cioè, Geek, questo fa... ha fatto un video... Fa... come vincere ora... Dice, ora come ora, l'unico modo per vincere su Warzone è usare armi per feste. Vi faccio vedere come settarli. Geek, erano tutte settate male. Male. Eh, infatti gliel'ho detto, non so se ricerri quando gliel'ho... Se portano il live, quando eravamo a giocare insieme gliel'ho detto del... 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 si chiama, del far. Allora, come ne ho? Allora, come va? Allora, come va? Allora, come va? Allora, è alla WP anche, lo stesso? No, allora, prima te non erai in WP che stava la gianta, due. Lo stesso? Lo stesso? E' uno? Lo stesso? Lo stesso? Si è scelto, va dici? Lo stesso? E' uno? Ah, mi. No, vabbè. Cioè, devo perdere i fatti, perché... Ah, che connessione hai, Geek? 100 Mega di Eolo. Eolo? 100 Mega, ma quanto ne arrivano effettiva la play? Andiamo qui, raga. No. I Mega che arrivano sono quelli lì. Il problema è quanto arrivano ai server Activision, che è diverso. Block. Block. Vabbè, poca gente la nave è andata. Non dà. No, no. Merda, mi hanno preso l'elicottero. Geek, scendiamo a porto, facciamoci porto. Andrei neanche andare alla nave. Ammessiamo la gente alla nave? Sì, sì. Prendiamo una taglia. Prendiamo una taglia, ci dà uno di quelli alla nave e si ammazzeranno tra di loro. Così facciamo sordi. Prendiamo una taglia. Questo muore di sicuro, dai. Un po' di rimanere vivo. Che. Di metà qui. Raga ma me raggiungete? E cosa dobbiamo fare? Sì sì, sto stoperando, sto perdendo. Sì sì, siamo spittati, vede che io sono da una parte, l'u-da un'altra. Ma no, non c'è più il loot Ma si può che corre più veloce con le pistole Quelle per terra che con quella tua in mano Ma perché la mia taglia non muore? Perché hai fatto una chip clamorosa Questa muore sicuro Ragazzi, prendete questa cassa di proti Prendete che c'è la cassa di moni Anzi, la butto subito la cassa di proti Buttala da me, buttala da me Che tanto bisogna andare qua Prendi tu questa Prendi la cassa di moni Ho trovato un nizio Sì Questo qua davanti Questo qui? Sì Oh baby, baby Io lo sapevo che la tagliamo arriva Già Non era una citta allora Mi lascio i soldi al drop, mi lascio i soldi Mi lascio i soldi allo shop Butto la cassa di proti Butto Aspetta un attimo Aspetta un attimo Arriva a cadu Che butto la cassa di proti Vai buttala, buttala di proti No, eri un po' lontano Prendo un resino Prendete uno Io ho trovato un top Va bene Andiamo a ammazzare loro Andiamo a prendere E ammazzare loro Andiamo 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 Ci sono andato una volta solo A quel cazzo di cosa non ci vado più E' un terno all'otto E' un terno Allora, aggiviamo la roccia Butto l'hav No, non lo buttare prima che saliamo Sì, sì, ho letto che c'è qualcuno NEDA No, è sotto, è sotto Mi dice che è il mio livello questo No, è stato lieto No, è il mio livello Non c'è bene Raga, vedi con me A sinistra Vado a sinistra Nord-est Adesso è tornato indietro, è tornato Ma che? Eh, sta satelando raga Ma c'è lo shop qua Non lo sapevo mica che c'era lo shop Ha restato Atterra, 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 atterra L'ho atterrato Grazie Oh, bella, bella mia Ma non era quella oro Nooo Ho pensato io che l'oro Stato maledetto Eh raga, wav Eh, c'è un bomber Se lo vuoi, wav Ma ora non lo tirerei ora Ora vediamoci di tutto E basta Andiamo da qua C'è Natalia, non c'è un cazzo Raga, ma se ci facciamo una coroncina Eh, ma qua Oh, e qua è rapina di galle Eh, come no Sento sono sempre loro Eh A meno che il bistro Volevile al camion Ma non credo sia Ci riesca Ma lui viene verso di noi No, fugge No, stai la camberando E' spaventato Cosa sta a muovere? Ieri stavo facendo una cosa bellissima Con la taglia che avevo la super taglia addosso Scusa, questo dove sta andando? Se va a blu? Stava andando a prendersi dal culo Stava andando a prendersi Va a prendere il codino Va a prendere No, sta allutando lì sopra Questo è scemo Ma va su blu Va su blu No, dai ragazzi Ma che cazzo fate? Ma che ci fanno? Non so che abbiamo lì Ho capito Ma ora sa che ci siamo E si campera Beh, lo torniamo e lo busciamo Non ho giusto uno Dai, la prima Claymore l'ho presa io Ah, si è buttato Ah, non si è buttato Ah, con lo spottino mica lo conosce Perché c'era il mio spottino? Io non ho mai visto quel spottino là, raga Uno solo Lo butto là, raga Si, si, ve lo fai Lo butto, lo butto Ok, son di là Che figli di puttana laggiù Oh, dove l'ho messo il drop? Ma che figlio di troia Lo riesci a prendere? Sì, si Ma, quanta f***a Usciamo questi? Eh, ma ce l'ho sopra Aspetta un po', c'è il coso C'ho il... come si chiama? Bomba Sì, c'ho il... Prendo la taglia, prendo la taglia Andando salgo sopra la cosa E comincia a pushare Poi comincia ad avanzare No, vabbè No, vabbè Ma poi si sa Se ne sono andati, bro Si, sono andati Si, sono andati Per me, se l'angelo Ehm, shop, shop No, vabbè, ma qua, dove sono questi? Ma, busciamo questi, raga Busciamo questi, dai Sono qua Sono... Ma, ma non ci vuoi andare Preferisco andare Almeno si fa soldi Anche io Andare a... Andiamo alla taglia Cioè, inutile Ci stava taglia Oh, lo geek Andiamo alla taglia Vado verso varmaland Solo che Il tempo che ci arrivamo Che da la partita Raga, andiamo verso uno shop Andiamo Eh Cioè, vado a prendere il sapato Raga, io farebba andare Se lo abbiamo E poi si va a girare Se lo ha un shop Andare, sì Cioè, tanto le taglie Te le daranno più, vado Oh Oh Never mind Uno che... Uno che resta dietro Lo punto resta dietro Per attivare l'altra Questo lo faccio io C'è tre Ho pure alzato la sensibilità Ho pure alzato C'è anche lo shop Non c'è neanche Come no Qua sì Io ho trovato Io ho trovato Io ho trovato No Sono quelle che sono Tavessi il lancio Sul tetto Guarda una C'era Non c'era nessuno Sul tetto Attivo No Non c'è neanche Ma Oh Da dove? Hanno sparato Mi ho messo i colpi Ma Non ho capito da dove a quello con le merda dove sopra cristallo la cristallo si f*** di p***a poi c'è il bombardamento eh ma non avvetti vabbè non avvete lo tiro io butto io butto io buavi poi riprendilo perchè io c'ho il bomb qua gente raga c'è cristallo che mi stanno già rompendo i cosi vai via da cristallo la vediamo ho una mira pessima a dir poco pessima oh uno qua sotto in garanzone qui c'è la threat risparano all'elicottero risparano all'elicottero da davanti da dove dobbiamo andare noi risparano eh locio kick butto un altro guava rata eh vai vai butta lituav overhead porca madonna puscio questo io se ma non è solo vedrai eh no no diamo un 2 kick ma allora facciamo una cosa io lo distrago ma facendo partire la cosa va bene ditemi quando siete quasi sopra che la faccio partire no? si si va bene ma si è buttata non lo vedo più si si è buttata guarda intorno a me perfetto io la faccio intanto la dove cazzo è? giù eh la fanno il culo Geek Geek dove stai andando? come c'è l'avviamento su? audio audio c'è l'elicottero sopra di te eh no tira wav non ne ho più ho detto di comprarlo vado no lo boato prima lo boato hai detto di sì c'è uno lì dietro che ti brucia c'è gente lì sotto eh si 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 lì dentro il camion nel arrivo nooo NOOOOO Oh Kato qua da me Are you? io non ho messo a te la roba sentili ok toccato 1-8-1-8-1-8 1-8-1-8 dammi un colpo facciare con potere da reale ok non c'è bisogno accompagniamolo a prendersi le sue armi ma io ti comprirei il drop là no aspetta c'ha 20k c'ho 20k e qua sono morto io ma che c'è della roba qui c'è della roba intanto la roba è qua la roba è qua la roba è qua la roba è qua il fara ma l'avete provato le nuove armi? no oh mi sparano no ero io col fara ma andiamo qua bisogna andarvi l'aggetto dell'amore ok svezziamo un po' i soldi tieni ma vedi che non c'è ma non ma vedi che non c'è in setle guarda guarda che ci abbiamo tutti scelte ci avete le piastre raga si da dove ti spara da madonna si da qui guarda gli spero oh ho atterrato un po' dentro si mocca perchè questi si pigliano guarda dove? è dopo un viene è dopo un viene è l'altro via l'altro via l'altro via è l'altro verso mi sparò dietro mi sparò dietro è sopra di me mi fa ribassare mi fa ribassare mi fa ribassare potremmo anche starcene via ma c'è gente non pensi che c'è più nessuno raga uno lo bisogna andare verso stadium 1 eh vado sopra la torretta vado vado a far ammazzare vado a far ammazzare attenzione frate che ti ammazzano eh si 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 infatti hai visto qual era la mia parola me la vado a far ammazzare a terra 1 a terra 1 là dove? ok tiro il bombardamento nooo abbiamo tirato i due bravo vabbè andiamo a ricomprarli vieni andiamo allo shock no mi sparano no mi hanno sparato dalle trasi dall'anno mi hanno sparato si l'ho attacolata 1 l'ho attacolata 1 l'ho attaccolata 2 l'hanno ucciso 1 l'hanno ucciso 1 l'hanno ucciso 1 si li lascio ma non è un viaggio tranquillo infatti infatti sparate ha cotto altri stallo ho fatto scomparire tutte le cose non dobbiamo comprare le piastre io non ho più piastre raga io ho la cassa prima sabato sto coso cazzo lo so ma comportamento sarebbe servirebbe il bambino ce l'ho preso dove dove la non li vedo più da un bel raga sono lì sopra l'arancione mi dite quando scendono che gli tiro una legnata a terra 1 a terra 1 a terra 1 la caduta è stato scomparire è stato scomparire o anche l'altro è stato scomparire a quello la bravo kick c'è l'altro più a destra c'è l'altro più a destra no 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 è bloccata mi auto resto? dai una bosta dai un bosta non ho più corazze non ho più eh teni potete cassa flate o glottiere dopo però non te le metti se sei qui bravo bravo io guardo qua a destra guarda raga mhm grande kick le hanno questa buttarlo di su madre saranno ancora due ancora due se ne stanno ma che stai se peccare le hanno? eh ma qua stanno da dentro non so scemi cos'è che vuoi? puoi tirare la cassa dei gastri per favore? tieni lo tieni ce l'hai una in più a kick? no non ce l'ho di più no non ce l'ho di più a pausa a pausa a pausa che culla dai ma voi dopo dobbiamo andare lì cosa facciamo? bene con l'angio sarà l'angio se non lo dovessi chiudere se non lo dovessi chiudere bisogna prendere la camera bomba mmm è brutta è un open totalmente in open chiude per tutti eh non solo per noi sai prendiamo il camera e andiamo qui no? forse è meglio senza il camera sai? che dici? eh ma a sinistra c'è la gente? a sinistra c'è la gente no no cazzo non andare lì non andare lì ma bisogna andare qui bisogna andare qui leva il kick il ping per favore qui dove sono io rimaniamo qua e facciamoci i cazzi nostri eh non fate rumore? madonna santa madonna ma perché non passate mai da dove passo io? mai non so che dove i cattoli sono andati eh po' 9 persone 5 team ma non c'è nessuno 4 team 6 persone facciamoci i cazzi no? no 5 team 5 team no 4 team 6 persone lo so lo so non lascia l'estate lascia l'estate non abbiamo più bombe raga quanti corpi ci avete da certo? 150 non mi hanno posiato l'arma no mi hanno cerchiato di là tirami su tirami su tirami 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 tanto c'è l'autoressa si rilandrà a terra va bene va bene tiraci su tiraci su ah io non c'è l'autoressa Ponte ha occhi se ci bucciano occhi se ci bucciano da sinistra sto guardando sto guardando da sinistra Ponte però grazie di star lì eh eh è da prima che sono qua eh non vedo che vieni qui ma faccio tutto piano per l'estate non c'è colpo geek non c'è colpi d'assalto sono a 40 tutti quelli copriano andiamo qua dentro qua dentro salta di qui salta di qui salta di qui salta qui veloce davanti a me davanti a me davanti a me lì dentro c'è della gente eh bisogna flashare eh dito le flash eh raga lì dentro aspetta vedere non andiamo non andiamo non andiamo siamo fuori siamo fuori safe geek bisogna andare lì dentro c'ho le flash dai merda hanno tirato un bando fermo 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 ha flashato ha flashato no conte però a destra a destra a qui dietro a qui dietro a qui dietro conte però fast eh geek poteva vivere se venivano così eh ah ah oh c'è 11.000 prova il resto allo soffio si si vado 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 un po' di bombardamento il resto e la maschera hai la la No davanti a me Ho tracciato Fatto 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 Vai C'è un uomo qui Dove 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 È davanti a me ragazzi Raga è davanti a me Cripo è davanti a me Cripo è davanti a me Raga c'è due 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 Let's go Eh ma avete voluto far morire Eh bro Ci siamo corazzati No lo so La pistola Ha fatto bene Tiro Dai No orizzamente Conte ho fatto un paio di passate In finale Tiro Va bene Io per esempio Dei solitario No 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 Aspettami No non siamo astronomi Quando ho detto Che andiamo di là Bisogna andare tutti di là Per me va bene Però poi potremmo Non mi dirà Che era solo Che era solo Qua l'importante È avere la scavallata Porca Sede Grazie a tutti Grazie.